Nel corso dei controlli straordinari attivati dal comando provinciale di Enna, le autorità hanno proceduto al sequestro di oltre 19 mila prodotti non sicuri, compresi oggetti decorativi e addobbi natalizi. I manufatti in questione, privi di etichette o non conformi al codice del consumo, rappresentano una minaccia alla salute e alla sicurezza dei consumatori. L'operazione, inserita in un più ampio piano di vigilanza in occasione delle festività natalizie, è stata condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Enna. Durante il controllo di un importante esercizio commerciale del capoluogo, sono state individuate centinaia di confezioni contenenti prodotti e addobbi natalizi messi in vendita senza le necessarie etichette in lingua italiana. Tali mancanze riguardavano informazioni cruciali sulla sicurezza dei materiali e componenti, nonché sull'origine della filiera commerciale. In conformità con il codice del consumo, che sottolinea i diritti fondamentali dei consumatori, tra cui la tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, l'informazione adeguata, il diritto di recesso e la corretta pubblicità commerciale, le autorità hanno effettuato azioni legali contro i responsabili. Attualmente sono in corso approfonditi accertamenti per risalire alla filiera di distribuzione e identificare i produttori che hanno eluso le regole di immissione in commercio. Nel frattempo, il titolare dell'esercizio commerciale sottoposto a controllo è stato segnalato agli organi amministrativi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste con un massimo di 25.823 euro.